TechValue è una società di servizi e consulenza IT focalizzata sull'industria manifatturiera che fornisce servizi informatici specifici per l'area dell'ingegneria. L'obiettivo di TechValue è di gestire l'infrastruttura IT dei dipartimenti di progettazione consentendo alle aziende di concentrarsi sulla creazione del prodotto. TechValue è stata fondata nel 1997 da personale altamente qualificato con pluriennale esperienza di Information Technology nell'area dell'ingegneria. Con oltre 70 esperti, supporta un parco clienti attivo di oltre 300 aziende, tra cui alcuni dei principali gruppi industriali italiani con centri di progettazione dislocati in tutto il mondo. Ogni anno TechValue gestisce e supporta oltre 3.500 posti di lavoro nell'area ingegneria, installa oltre 600 workstation e riceve oltre 25.000 chiamate di supporto su sistemi ed applicativi. Per meglio supportare le esigenze dei clienti, TechValue si è strutturata su due linee di business, i grandi clienti e la media impresa. TechValue ha sviluppato accordi di collaborazione tecnologica con i principali fornitori di software nell'area del design automation, calcolo strutturale e del ciclo di vita del prodotto. TechValue supporta gli strumenti di progettazione tramite la gestione delle postazioni di lavoro, dei server, dei software e degli helpdesk. Grazie all'expertise di processi e tecnologia accumulato in questi anni sui grandi clienti, TechValue ha creato metodologie di supporto per la media impresa manifatturiera italiana, diventando punto di riferimento del mercato. TechValue è il partner qualificato per consentire alle aziende di rendere efficaci gli investimenti in Information Technology a supporto dello sviluppo del prodotto. I servizi TechValue sono strutturati per evolvere in modalità cloud e il processo di certificazione ISO 20000 sta giungendo al termine. e il processo di certificazione ISO 20000 sta giungendo al termine.